Consacrazione, atto di offerta dell'amore. Mio Gesù, alla presenza della Santissima Trinità e di Maria, nostra Madre del Cielo e di tutta la Corte Celeste, unitamente ai meriti del tuo preziosissimo sangue e del sacrificio della croce, io ti offro tutta la mia vita, secondo le intenzioni del tuo sacratissimo cuore eucaristico e del cuore immacolato di Maria. Per tutto il tempo che vivrò, tutte le mie sante messe e comunioni, le mie opere buone, i miei sacrifici e tribolazioni, li offro a te in adorazione della Santissima Trinità e in spirito di riparazione per l'unità della Santa Chiesa, per il Santo Padre, per i nostri sacerdoti, per le vocazioni sante e per tutte le anime fino alla fine del mondo. Mio Gesù, accogli questa consacrazione della mia vita e donami la grazia di rimanervi fedeli fino alla morte. Amen.